Radio Tusha Evans Radio Tusha Evans Ciao a tutti e benvenuti all'edizione del 17, del 18, del 19 e del 20 aprile 2016 del TG degli eventi di Radio Tusha Evans. Domenica 17 aprile alle 17, presso la Bella Verde in via Verentana 47 a Capodimonte, il gruppo di lettura Libri in Circolo presenta tre racconti di Gustav Flaubert. Lunedì 18 aprile alle 16 e 30, presso la Sala San Leonardo al Murialdo, situato in caduti del nono stormo a Viterbo, si terrà Diritto, la Costituzione Italiana del 1947. Strumento ancora attuale? Questa è una conferenza del dottor Carlo Maria Scipio, procuratore della Repubblica. L'ingresso è libero. Per quanto riguarda martedì invece, alle 16 e 30, presso la Sala San Leonardo, situata in via caduti del nono stormo a Viterbo, si terrà il giardino come locus amenus, il giardino come luogo d'incontro. L'ingresso è libero. Mercoledì invece, alle 16 e 30, presso la Biblioteca Comunale, situata in Largo San Pietro a Montefiascone, l'Associazione Culturale Cenacolo Falisco presenta filosofia estetica. Zenobia, regina di Palmira. Questa è una conferenza del professor Settino alla Porta e l'ingresso è libero. Sempre alle 16 e 30, presso la Sala San Leonardo, situata al Murialdo, in via caduti del nono stormo a Viterbo, per scienze si terrà conservazione degli alimenti, origine, sviluppo e tecnologie, a cura del professor Gabriele Anelli dell'Università della Tuscia. L'ingresso è libero e con questa notizia concludiamo il Tg degli eventi di questo inizio settimana. Ciao a tutti!